75 anni fa fu ucciso Don Gerlando Re a Cianciana, proprio nella giornata di oggi. Parliamo. Sono trascorsi 75 anni da quando Don Gerlando Re, giovane sacerdote di Cianciana, fu barbaramente ucciso nel lontano 1949, proprio come oggi. Cosa rimane? Rimane questa figura straordinaria della diocesi di Agrigento e della Sicilia, che sacrificò se stesso e fu ucciso in odio alla fede cristiana, perché l'uccisore non condivideva, anzi odiava, tutto l'insegnamento etico di Don Gerlando Re. A Cianciana, recentemente sappiamo che si è svolta una interessante cerimonia ad opera del nuovo arciprete Don Emanuele Casola, che sta facendo conoscere questa figura con iniziative di alto spessore. Il desiderio è che questa figura possa essere ancora conosciuta nella nostra provincia, noi possiamo prendere grandi esempi di vita, cioè di essere coerenti con noi stessi, in tutto il nostro operato, ovunque noi ci troviamo, nel campo della scuola, nel campo del lavoro, delle varie professioni e l'auspicio è che al più presto possa iniziare un processo di canonizzazione. Anche il giornale L'Amico del Popolo ne ha dato risalto a queste notizie, professore di Natale. Sì, Don Garmelo Petrone, che è il direttore del settimanale Diocesano, L'Amico del Popolo, ha dedicato l'articolo di fondo proprio sulla figura di Don Gerlando Re, mettendone in evidenza il cammino formativo che Don Gerlando Re aveva ricevuto, l'apostolato, l'azione, l'impegno che aveva svolto a Cianciana e anche l'attualità. Se l'Amico del Popolo, con la firma del direttore Don Garmelo Petrone, ha ritenuto di dedicare l'articolo di fondo su Don Gerlando Re, significa che a distanza di 75 anni è una figura da proporre alle nuove generazioni.